Un anno fa, il 10 giugno 2023, la piccola Cattleya, conosciuta da tutti come Cata, scompariva misteriosamente. Oggi è emerso un nuovo video, attentamente analizzato dalla procura di Firenze e dalla famiglia della bambina, che potrebbe gettare nuova luce sul caso. Nel filmato, si vede Cata seguita da due uomini. Alle 15 e 15 di quel giorno, Cata sale le scale fino al secondo piano per poi ridiscendere le telecamere della società Ritar mostrano Cata mentre gioca con altri bambini e poi scende al piano terra, entrando nel corridoio dell'hotel che porta al cortile. Purtroppo, la cosa più spaventosa è che due uomini la seguono a breve distanza. Poi, la bambina scompare nel nulla. Secondo la criminologa, questi due uomini potrebbero essere elementi chiave nella sparizione di Cata. Nei filmati si vede anche un gruppo di tre o quattro persone, peruviane e romene, che osservano Cata mentre sale e scende dalla scala a chiocciola su via Luigi Boccherini. Anche loro potrebbero avere un ruolo nella vicenda. Alle 15 e 37, una donna romena viene ripresa mentre sale le scale con un grande fagotto di lenzuoli. Questa immagine ha profondamente scosso Caterina Alvarez, la madre di Cata, che in lacrime ha esclamato, me l'hanno soffocata. Eccola lì, la mia piccola.